8 persone considerate legate al clan Giunta sono state arrestate dai carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Gli arresti, scaturiti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della DDA, sono stati seguiti nella città Oplontina, a Torre del Greco e a Monfalcone, in provincia di Gorizia. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di associazione di tipo manfioso, tentativo di omicidio e associazione finalizzata al traffico lecito di stupefacenti, estorsione e detenzione porto e lescito di armi, tutti aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose. I carabinieri hanno ricostruito tra l'altro la dinamica del tentativo di omicidio avvenuta a Torre Annunziata il 10 febbraio del 2015 di un narcotrafficante che si era ribellato al pagamento del regalo di Natale per i carcerati. Documentato dai militari il giro delle estorsioni agli imprenditori, la gestione delle piazze di spaccio, con imposizione del versamento di una quota dei profitti nelle casse del clan, nonché la disponibilità e l'uso di armi.